Dobbiamo perdere qualche minuto all'inizio per dedicare qualche nostro pensiero a un somaro politico che ha ripreso a ragliare. Sappiamo tutti quanti, almeno tutte le persone che hanno buon senso, che quello che è successo sarebbe successo dovunque per una vittoria sportiva significativa. Ma, siccome è capitato a Napoli l'episodio, il cafone ha ritenuto di fare dei commenti. Bene, io credo che quel cafone politico abbia dimostrato di essere davvero tre volte somaro, non una volta solo, perché se uno organizza il 2 giugno a Roma una manifestazione in violazione di tutte le norme anti-assembramento, ed è non un giovane tifoso ma un esponente politico segretario di un partito, se organizza quella manifestazione in totale disprezzo delle norme di sicurezza, insieme con la vispa Teresa, e poi si permette di aprire bocca, vuol dire che questo esponente politico ha la faccia come il suo fondo schiena, peraltro usurato.